Buonasera e benvenuti in Fashion Place Anno 1992 Nascevo la Fashion Place in Zondria Fisca troppo in Italia fino al 2002 la stanza dei turbi è stata un mito in tutta la felice d'italiana a salare i mischi per noi questa notte tutti gli artisti che hanno creato e inaugurato la Fashion Place dal 1992 al 2002 10 anni di storia generare i mischi per voi fino alle 5 del mattino Alessandra Tognetti Sandra Dibot Paola Fighine e Tona Spi Un ringraziamento speciale a tutto lo staff del Reverence che questa notte ci ha ospitato martedì 5 gennaio 2016 il primo evento Patch of Race in the club Showcase Night Alessandro Tognetti Sandro Dibot Paolo Tignini e Thomas T fino alle 5 del mattino Patch of Race e Swing Chi Do you remember I told you, do you remember that's your place? I don't know about my secret, I'm going to stress You're going to stress